è ufficiale google ha rilasciato la prima beta di android 15 disponibile già su tutti i pixel che ovviamente sono finora supportati trovate la lista qui da qualche parte ma la roadmap è bella chiara perché i prossimi passi saranno i seguenti a maggio durante il google input output 14 maggio la beta 2 a giugno la beta 3 a luglio la beta 4 per arrivare poi alla release definitiva durante il mese di agosto di settembre dipende varia di anno in anno e ovviamente sarà il sistema operativo base dei nuovi google pixel 9 e google pixel 9 pro io ovviamente l'ho già installato sul mio google pixel 8 e è il momento di andare a fare il punto per capire che cosa ci aspetta con questo nuovo aggiornamento in termini di migliorie e in termini di novità lasciate un se questo video vi piacerà inizia iniziamo col dire che questa non è la primissima versione android 15 perché già ai mesi scorsi google ha rilasciato le developer preview la 1 e la 2 che sono state un po degli aggiornamenti preparatori proprio a questo a questa beta che adesso non è più disponibile solo agli sviluppatori ma anche agli utenti che vogliono iniziare a smanettarci i punti su cui google vuole lavorare con android 15 sono tendenzialmente 4 ovvero connettività privacy sicurezza e esperienza utente partiamo da quest'ultima che ovviamente ha maggiori implicazioni visibili da andare a toccare con mano sullo smartphone la prima è l'introduzione della possibilità di archiviare un'applicazione ipotizzate quel caso in cui avete un'app installata pensate di installarla ma un giorno potrebbe ancora servirvi e magari vorreste avere diciamo sullo smartphone ancora i dati ad esempio di login oppure le preferenze ecco questa funzionalità va incontro a questa esigenza basta tenere premuto sull'applicazione cliccare su informazioni applicazioni e qui spunta un nuovo pulsante archivia premendo questo pulsante l'applicazione non occuperà più spazio sullo smartphone non sarà ovviamente più accessibile ma con un altro tap sarà possibile ripristinarla e nel mentre i dati verranno mantenuti quindi non dovrete riconfigurare tutta l'applicazione davvero una bella chicca questa una funzione che però non riguarda gli smartphone ma riguarda i tablet è la possibilità adesso finalmente di aggiungere i widget sulla lock screen sembra un po ritorno alle origini un tempo si poteva già fare si poteva fare addirittura anche sullo smartphone adesso android 15 lo reimplementa sui tablet e qui state vedendo giusto qualche immagine questo diciamo che renderà ancora più utile probabilmente proprio il google pixel tablet che è studiato per fungere anche da da smart hub il terzo punto speriamo che sia veri perché è tanti anni che se ne parla ma ancora di tangibile abbiamo visto poco ovvero la modalità desktop presente preinstallata su android google la sta sviluppando abbiamo visto qualche immagine già nella prima developer preview ovviamente rinnovata e per essere funzionale effettivamente per essere operativa state anche qui vedendo alcune immagini al momento si può forzare l'attivazione di questa modalità solo nell'opzione sviluppatore quindi non è proprio una funzione ancora accessibile ma ha aggiunto nel frattempo la possibilità di utilizzare le app in multifinestra cosa che nelle primissime release non c'era e anche qualcos'altro insomma lo sviluppo procede speriamo che con android 15 approdi questa funzionalità due novità riguardo l'usabilità la prima riguarda talkback che è un'area dedicata all'accessibilità su android per quanto riguarda lo smartphone ovvero sono stati aggiunti è stato aggiunto il supporto a tanti display braille aggiuntivi e inoltre è stata aggiunta un api che permette di andare a migliorare finalmente l'esperienza d'uso con i pdf nulla da mostrarvi al momento ma comunque una buona notizia novità sotto banco per gli sviluppatori ma sicuramente poi apprezzabile dal punto di vista dell'esperienza d'uso è il supporto alle app edge to edge ovvero che arrivano fino ai bordi senza andare a creare margini o cose strane vi mostro questa immagine per chiarirvi un po l'idea a destra la situazione edge to edge adesso gli sviluppatori che creano app destinate ad android 14 o precedenti possono scegliere di far mostrare così la loro app mentre le app destinate android 15 andranno a riempire direttamente tutto lo schermo passiamo all'ambito della connettività e la prima funzionalità che approda diciamo su android 15 che sarà disponibile su tutti gli smartphone che ovviamente supporteranno questa funzionalità riguarda i messaggi satellitari funzionalità aggiunta da apple sui suoi ultimi iphone e ovviamente google non vuole restare indietro avevamo già visto questa funzione in alcuni rumor precedenti adesso praticamente confermato perché google ci sta veramente lavorando grazie ad alcuni primi screenshot possiamo già vedere il funzionamento come ad esempio la possibilità di collegarsi direttamente a satellite nel momento in cui lo smartphone perde diciamo copertura di segnale e forse la possibilità di inviare messaggi a chiunque questo secondo me dipenderà un po dal servizio che poi dovrà integrarsi per offrire appunto i messaggi satellitari comunque ne scopriremo di più sicuramente prossimamente riguardo l'nfc google sta cercando di rendere questa funzionalità sempre più accessibile sempre più fruibile anche in velocità per effettuare poi ovviamente i pagamenti la prima grande novità con android 15 è il fatto di staccare diciamo la parte nfc dal sistema per riversarlo in una sorta di app sul play store infatti questa funzionalità di nfc sarà aggiornabile nel tempo direttamente tramite il play store questo permetterà poi a vari brand di poter inserirsi molto più agilmente questo va a braccetto con la nuova funzionalità riguardo google wallet dove google ha finalmente creato una sorta di ruolo all'interno del sistema operativo per cui anche altri brand possono andare a utilizzare un'app predefinita direttamente come wallet in sostituzione ovviamente a quella di google volendo in android 15 si avvererà un po quello detto in le ultime notizie e anche nel video fatto da mattia qualche giorno fa riguardo find my device ovvero la rete di dispositivi che google sta creando ovviamente similare a quella di di apple per permettere di ritrovare le cose sparse nel mondo che magari andiamo a perdere questa funzionalità non utilizza infatti il gps per ritrovare le cose ma utilizza la rete di smartphone diffusa nel mondo attraverso la connettività bluetooth per fare un esempio io che passo su una strada vicino a uno smart tag supportato ovviamente il mio smartphone senza che io veda niente o che faccia niente semplicemente va a comunicare che quello smart tag si trova esattamente in quella posizione tutto in maniera anonimo e semplicemente viene localizzato in questo modo proprio lo smart tag che il proprietario può capire dove dove lo ha smarrito insieme all'oggetto a cui l'aveva accompagnato per far funzionare tutto ciò ovviamente google è necessario che gli smartphone tengano il bluetooth attivato questa funzionalità attiva per cui quando andiamo a disattivare bluetooth ci compariranno dei messaggi per cui si propone la riattivazione dopo qualche ora oppure una disattivazione bluetooth ma non per tutte le funzionalità solo per i collegamenti diretti mentre per gli indiretti da andare ulteriormente nelle impostazioni insomma c'è questa sorta di modifica nelle impostazioni proprio per cercare di mantenere quanti più smartphone o dispositivi col bluetooth attivo per far funzionare in maniera efficace questa funzionalità di trova al mio dispositivo che alla fine della fiera è veramente utile passiamo sulla privacy e qui google aggiunge qualcosina che avevamo già visto per gli screenshot ma adesso per la registrazione dello schermo ovvero le app potranno capire quando è attiva la registrazione dello schermo sullo smartphone così da offuscare eventuali dati sensibili questo è fatto soprattutto per evitare che app che lavorano in background vanno a registrare lo schermo mentre fate altre cose e quindi in termini di sicurezza è assolutamente importante allo stesso modo altra funzione utile è il fatto di poter finalmente condividere una porzione di schermo o un app durante la condivisione schermo anche questa funzionalità utile per evitare di sempre condividere tutto lo smartphone piccolo rinnovamento in impostazioni rete internet e quindi internet adesso la schermata si apre a schermo intero e non più a pop up ma soprattutto è stato aggiunto un tasto ovvero quello per impedire oppure abilitare la condivisione del nome del dispositivo nelle reti wifi restando in tema di reti ma passando sul lato della sicurezza anche qui c'è una sono un paio di novità la prima è la possibilità di impedire allo smartphone di connettersi a reti web che è un sistema di protezione ormai assolutamente superato la seconda è in impostazioni sicurezza e privacy maggiore sicurezza e privacy con i nuovi interruttori notifiche di sicurezza e richiedi crittografia questo per impedire ai dispositivi di inviare dati di testo o vocali su protocolli più vecchi o non crittografati ci sono poi diverse novità per gli sviluppatori nuove pi eccetera eccetera che vi invito ad andare a approfondire nell'articolo che vi lascio linkato in descrizione sempre ritrovate anche le istruzioni se volete andare a installare questo sistema operativo se volete sapere la mia al momento ve lo sconsiglio ci sono vari bug sia grafici che funzionali l'nfc ad esempio non funziona e di conseguenza vi consiglio magari di rimandare l'installazione alla beta 2 o la beta 3 ancora ancora meglio è disponibile al momento solo per i pixel trovate anche qui le istruzioni nell'articolo di iscrizione e un piccolo commento finale è un aggiornamento che per ora non mi sta piacendo particolarmente poche novità poco di concreto sicuramente importanti alcuni aspetti riguardo la sicurezza e la privacy ma da google mi aspetterei qualcosina in più è anche vero che ora ha delegato tutte le funzionalità alle app quindi anche l'intelligenza artificiale eccetera tutte cose che scopriremo probabilmente il mese prossimo durante il google input output per questo video era tutto lasciato un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo un prossimo video ciao 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 ciao